Siamo con il grande Fabio Ambrosini, oggi qui nella palestra di Novara, lo Stabile Team. Allora, da marzo tu sei fisso in questa sede e come stanno andando le cose? Sì, intanto ciao a tutti. Come già detto te Mauro, da marzo sono qua fisso in questa sede innanzitutto a insegnare i corsi di MMA, di Thai e di Functional Training e ad allenarmi comunque, a preparare i soliti match che ci sono nel corso dell'anno. Allora, quali sono i vantaggi di questa palestra? I vantaggi di questa palestra, come puoi vedere, è super attrezzata. Abbiamo una gabbia, siamo attrezzati con i sacchi, le pareti sono imbottite, possiamo lavorare a 360 gradi. Tra l'altro è un bellissimo tatami, ideale per fare lotta, brasiliano jiu-jitsu, grepio. Senti, qui a Novara, tu sei di Arona, oltre a avere i corsi di Arona, sei qui a Novara, è una struttura ideale proprio per la promozione degli sport da combattimento e nello specifico dell'MMA. Sicuramente sei uno dei promotori più grandi che abbiamo in Italia di questa disciplina. Infatti ti posso dire questo, io sono qua quattro volte alla settimana, mi trovate qua il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato e porto i ragazzi che ho da Arona, li porto ad allenarsi anche qua a Novara, appunto per la struttura. Che clima si respira nello Stabile Team Novara? È un clima familiare, siamo tutti amici, ci troviamo bene, ci troviamo in palestra e fuori dalla palestra comunque. Allora, chi sono i tuoi collaboratori più stretti in questa palestra e come è nata questa amicizia? Collaboro strettamente con Luca Cardano, con il dottor Marco Invernizi, con il nostro maestro, logicamente, Filippo Stabile. Io sempre, tutte le volte che vengo qua, vedo una palestra dove si respira proprio il profumo dell'allenamento, del combattimento, diciamo. È proprio quello che si respira dentro questa struttura. E' bello di questa palestra che è aperta 6 giorni su 7 tutto il giorno, perciò è aperta a tutti. Adesso, oltre agli orari dei corsi, i ragazzi comunque hanno la possibilità di venire e allenarsi a qualsiasi ora. Senti, la palestra è comodissima anche per chi viene da fuori Novara, perché in un attimo si trova in centro, ricordiamo l'indirizzo e com'è facile arrivare. Siamo in Via Leonardo da Vinci al numero 4 e siamo forse a poco meno di un chilometro dall'uscita della superstrada. Perciò è comodo perché arriva da Milano, è comodo perché arriva come me comunque dal Lago, da Rona, è comodo perché arriva da Vercelli e da fuori. Quindi un invito a tutti a venire a provare lo Stabile Team Novara. Certo, assolutamente, ci tengo a dire questo se me lo permetti, ci tengo a far sapere che abbiamo anche dei corsi per bambini, i ragazzini e i corsi sono veramente pieni. Abbiamo un corso per bambini, contiamo all'incirca una dozzina, forse più di bambini che partono dai 4 ai 7-8 anni che sono poi il fiorfiore della palestra. Senti, allora ringraziamo tutti dallo Stabile Team Novara e tutto, grazie a Fabio Ambrusilla. Grazie a voi, buona Pasqua.